Iniziamo con Noemi, che noi salutiamo, poi vedremo chi è Noemi. Noemi, buonasera. Buonasera, salve. Noemi è che di nome fa, lo vedo subito, di cognome, Macbor, si dice così? Macbor, sì, esatto. Sei originaria di dove? Ti do di tu perché sei giovanissima. Grazie. Allora, mia madre è originaria della Nigeria, io sono nata a Perugia, però mi sono trasferita da subito nelle Marche, per cui mi dico Marchigiana, se me lo possono permettere. Perfettamente, l'italiano sei nata in Italia, d'altra parte, quindi sei vissuta, hai fatto l'università. Ah, non abbiamo detto la cosa più importante, perché abbiamo chiamato questa sera Noemi, perché lei si candida con la lista Valore Futuro a sostegno della candidatura al sindaco di Antonio Bravi. Noemi è così, possiamo dire, una ragazza geniale, perché ha 24 anni, è già laureata, ha seguito gli anni al liceo Leopardi di Recanati. Laureata in che cosa, Noemi? Allora, io sono laureata in triennale in economia aziendale, ma al momento sto finendo una magistrale in finanza, sempre verso l'Università di Bologna, nello specifico tratto di finanza quantitativa e processi statistici applicati ai mercati finanziari. Ecco, si dice di te che sei attivissima a Bologna, promuovi iniziative sulla parità di genere e anche battaglie sull'equità degli affitti per gli studenti. Sì, Bologna purtroppo come molte altre parti d'Italia ha un problema di affitti molto consistente. Io mi inserisco all'interno di un progetto che è nato a livello nazionale nel 2012, quindi arrivo dopo, che si chiama Spot ed Unibo. Fa parte della rete dei progetti Spot ed Università, crea degli ambienti soprattutto sociali e comunicativi per i giovani, con l'intento di essere quanto più inclusivi e includenti e inserirci all'interno dell'attività e della quotidianità, soprattutto degli studenti universitari, nel nostro caso di Bologna. Benissimo. Come mai questa decisione di candidarti a queste amministrative? Avevi già seguito un po' a livello locale la politica? Più che politica, avevo seguito delle iniziative sociali che hanno state proposte dalla parrocchia nella quale non ho fatto la comunione, ma la Crescima, la parrocchia di San Francesco. Sono iniziate nel 2009 quando ci fu quel tremendo terremoto all'Aquila e arrivarono da noi i montianziani presso l'ospedale di Recanati, per cui come iniziativa ci stava di passare qualche pomeriggio con queste persone che altrimenti rimanevano sole. Fatto ciò c'è stata l'esperienza del Banco Caritas, fino ad arrivare alla stupenda esperienza dei nuovi amici, che nasce a Macerata, ma ha una parte anche qui a Recanati, sempre grazie alla parrocchia di San Francesco. Quindi il mio interesse politico nasce prima come interesse sociale, prima come interesse su dinamiche che possono interessare tutta la comunità. Successivamente è diventato un interesse politico quando sono andata al liceo, dove ho avuto la possibilità di fare una breve esperienza all'interno dei studenti in lotta. Al tempo sempre una parte del PD, che poi successivamente ha avuto varie dinamiche interne. In università mi ero avvicinata alla sinistra universitaria, poi successivamente mi ci sono allontanata per via di questo progetto di MySpot ed Unibo, che invece tenta di esprimere gli interessi un pochettino di tutti, senza dover essere di parte o senza rischiare di avere delle dinamiche interne, che purtroppo in alcuni ambienti non consentono di portare avanti delle lotte che interessano tutti. A me piace dire che sono delle lotte che non hanno un colore politico, quando parliamo di integrazione, di politica, sostegno dei giovani, delle famiglie e del territorio. Fino ad arrivare ad oggi, dove mi è stata proposta questa esperienza che io ho preso molto volentieri, perché sono molto legata al territorio di Recanati, ho quindi accettato di far parte di queste elezioni con il sindaco, per di più Antonio Bravi, perché facendo parte del centro-sinistra sposa molto la mia idea di politica. Ecco, c'ha più amici a Recanati o a Bologna? Penso ormai a Bologna, visto che... Scusi, non ho capito la domanda. C'hai più amici a Recanati o a Bologna? Devo dire che sono una persona molto introversa, molto timida, quindi non ho tanti amici, partiamo da questo presupposto. Al momento ho pochi amici a Bologna, veramente pochissimi due persone, e invece trattengo una rete di persone molto care a Recanati. Persone che prevalentemente hanno fatto parte della parrocchia che ho frequentato per anni, però restano sempre lì a Recanati, sì. Ho capito. Quindi sei religiosa, tu non ho... Oddio. No. No. Sì, nel senso che non mi piace dirmi atea, diciamo che forse dai 18 anni, 19, un po' come succede a tanti giovani, è un po' iniziata una crisi di fede su alcune parti, perché abbiamo un mondo che va a Montarotoli e Montevonte e non ti senti sentito. Io ho fatto parte di Azione Cattolica Ragazzi perché era questa l'esperienza che proponeva la parrocchia di San Francesco per poi continuare in Azione Cattolica. Ad oggi sposo ovviamente le idee di Azione Cattolica, su questo non lo sto molto a nascondere. Per il resto vivo però la mia vita in modo molto laico, per cui anche per quanto riguarda i temi sociali, tento sempre di ricordare che la mia sfera religiosa e spirituale potrebbe non totalmente integrarsi con qualcun altro che magari arriva da un'altra religione. Di fatto quello che è importante è che ci si rispetti a vicenda, cioè come io non subento nella religiosità di qualcun altro, gli altri non devono subentrare nella mia religiosità perché comunque è anche qualcosa di cultura e di tradizione. Certo, parole molto giuste. Senti Noami, ma i tuoi genitori hanno fatto quel percorso di immigrati classico oppure come sono venuti in Italia? Allora, nel mio caso parliamo prevalentemente di mia madre perché io sono cresciuta con lei da sola, grandissima donna, molto molto forte e emancipata da questo punto di vista. Mia madre è venuta qui in Italia per l'università nel 99, poi si è innamorata di questo paese, ha iniziato a lavorare e al tempo le cose erano molto diverse rispetto ad oggi. Cioè ad oggi ti chiedono un dottorato anche per poter fare lo sportellista nelle banche, al tempo non ci stava bisogno di avere un dottorato. Per cui l'università con la mia nascita non l'ha finita, si è inserita all'interno del territorio maceratense che ha apprezzato e quindi è rimasta lì. Io ormai ero nata, quindi sono rimasta lì anche io, però no, mia madre non si inserisce all'interno di quel percorso che noi siamo abituati a vedere nei telegiornali. Esatto, che poi è anche molto, come dire, avvolgente come esperienza, sia perché è traumatica, sia perché siamo abituati a non sentire altri tipi di esperienze di stranieri che arrivano in Italia. E questo purtroppo ha delle conseguenze anche sui giovani, perché magari guardandoli esternamente, pensiamo tutti quanti che abbiano avuto un destino tragico, una vita molto tragica. E lì, come dire, trattiamo di conseguenza, sempre con uno sguardo che gli va un pochettino a vittimizzare su magari delle esperienze che non hanno vissuto. Diciamo che io purtroppo, o per fortuna, questa esperienza non la so raccontare in prima persona, però qui a Bologna invece, per esempio, è molto diverso. Possiamo trovare molte più persone che hanno avuto questo tipo di esperienze e di percorso. Quindi anche le politiche rivolte verso i giovani e rivolte verso stranieri che sono venuti qui a Bologna, sono diverse da quelle che invece magari sono quelle da attuare a Recanati. O anche diverse da quelle da attuare a Porto e Recanati, per intenderci, se pensiamo alla composizione degli stranieri. Ecco, mi comunicano, anzi, da un tuo breve curriculum, che hai un'azia, Mersi, che lavora alle Nazioni Unite. Sì, lavora. Quindi, va bene, se siete una famiglia molto, diciamo così, impegnata, sono più fronti. Sul fronte degli studi e accademici abbiamo sempre dato molta importanza, tant'è vero che devo dire che ho avuto mia madre che ha continuato a spingermi verso gli studi. Mia zia, nello specifico, è ricercatrice presso l'Uno, quindi le Università Unite delle Nazioni, se le vogliamo tradurre in italiano, si occupa di parità di genere, di crescita economica e sociale, ambiti un pochettino diversi rispetto ai miei, perché io mi occupo prevalentemente di macroeconomia, econometria e mercati finanziari e alfabetizzazione finanziaria, però sta sicuramente a molti più step in avanti rispetto a me, quindi laureata, trendale, magistrale, dottorata, adesso insegna, regna e ci stanno anche delle sue pubblicazioni online di alcuni studi e commenti interessanti. Senti, visto che ti candidi a queste elezioni amministrative, ami Recanati, hai detto che hai più amici Recanati che a Bologna, perché hai stretto anche più legami, ti sei impegnata nella parrocchia di San Francesco sin dall'età di 18 anni, ancora prima, non lo so. Da nove anni. Da nove anni, quindi ancora di più, ancora di più. Ecco, quindi hai un'idea di quello che è oggi Recanati, il tuo impegno semmai come lo potresti tramutare per poter migliorare questa città? Che cosa necessita questa città che a te preme? Allora, domanda dai mille risvolti. Ma basta uno, due le menti, eh? Grazie. Vediamo come spacchettarla. Diciamo che da un lato conosco Recanati e anche il territorio, quindi Recanati d'Intogni, nonché la provincia di Macerati e di Ancona, poi passando ad altre province, adesso la conosco già molto di meno, quindi posso dire di meno. Però questo aiuterebbe a comprendere innanzitutto quali sono i problemi di Recanati e quali strumenti poter adoperare per poterli risolvere, quantomeno mitigare. Quindi da un punto di vista quantitativo, per il percorso di studi che sto facendo, riuscirei a implementare magari una ricerca su quanti giovani ci sono, che fasce di età hanno, cosa studiano, cosa non studiano e capire se ci stanno delle esigenze particolari che non per non bravura, però magari per una differenza di età non sono semplici da cogliere quando si inizia a essere molto più grandi, quando si inizia a essere, non so, intorno ai 50-60 anni. Penso anche all'esperienza che ho io con i miei professori. Purtroppo si ha molta fatica a comprendere i giovani e il mondo, non so, dei social, del perché tendono a stare dentro casa, non escono o, non lo so, si chiudono e non parlano. Per cui ci potrebbero essere delle iniziative a livello di scuole, a livello di medie superiori o anche delle iniziative a livello di festival o di organizzazioni che possono interessare un po' di più la comunità giovane che la comunità più adulta di Recanati. Poi dal fatto che a me non piace moltissimo definirmi italo-straniera perché non ha molto senso come appellativo, però per leggi io per 18 anni sono stata considerata straniera, quindi non ho avuto la cittadinanza, adesso ce l'ho, però 18 anni insomma li ho dovuti aspettare. Significa anche, comprende quali cose… Anche se sei nata qui. Sì, la legge purtroppo è così, non starò qui a spacchettarla perché è un discorso enorme. Però la legge purtroppo è questa, totalmente assurda. Però questo significa cosa? Le faccio un esempio un po' più pratico, poi dopo le do il tempo che le prendo. Per esempio, un ragazzo giovane che va alle medie o anche solo ai superiori ed è una promessa dello sport, purtroppo fa difficoltà a continuare il suo percorso sportivo. Perché? Perché se deve fare delle trasferte all'estero ha delle difficoltà a livello di visti, ha delle difficoltà a livello di permessi, essendo che non può viaggiare magari da cittadino europeo. Perché pensiamo a qualcuno che arriva dal Marocco, anche solo in americano, perché quando diciamo estracomunitari ci dimentichiamo che anche i canadesi nella pratica sono extra. Tutti quelli che non sono una comunità europea sono tutti extra. Esattamente. Per cui che succede? Succede che purtroppo molti giovani non riescono ad avere gli stessi accessi a livello di opportunità che possono avere i loro coetanei, per semplice fatto che per esempio non hanno la cittadinanza, ma anche un semplice scambio culturale tra una scuola italiana e una scuola francese. Purtroppo ci stanno dei processi burocratici che sono molto complessi. Io ricordo che alle medie ero riuscita a fare questo scambio culturale regalato dalla stessa scuola media perché avevo dei voti molto alti, però il processo burocratico che vi è stato dietro è stato paradossalmente assurdo, malgrado io fossi nata e cresciuta qui in Italia. Per cui una cosa carina che si potrebbe fare a livello comunale è trovare delle soluzioni che vadano ad agevolare e, come dire, mitigare questo genere di problema è un problema che interessa non solo gli stranieri, ma anche tutti quegli italiani che non sono riconosciuti dalla legge. Perché? Perché non hanno raggiunto i 18 anni d'età e non hanno ancora pagato la cittadinanza. Poi ci possono essere altre iniziative che sono invece più adatte a tutti quanti, quindi di dopo scuoli integrati anche con delle esperienze di volontariato che per me hanno riempito il cuore, ti fanno veramente scoprire un altro mondo, esperienze che altrimenti non avresti mai visto. E queste cose si possono fare entrando direttamente nelle scuole, cercando un dialogo tra i professori e le famiglie e andando magari anche a prendere tutti quei ragazzi che noi abbiamo perso dalla catechesi. Pensiamo a quanti bambini oggigiorno non vanno più in catechismo perché magari non sono interessati i genitori. Sono tutte iniziative che, ripeto, non è che non vengono considerate dall'amministrazione comunale che c'è stata adesso e c'è stato in passato, semplicemente sono più difficili da accogliere dal momento in cui ci si allontana a livello generazionale da queste nuove generazioni. Certo, no, no, molto giusto. Infatti ancora dovremo adeguarla al più presto questa nuova legge perché è paradossale che Noomi non abbia ancora la cittadinanza, anzi ce l'ha, ma ha dovuto aspettare i 18 anni di età per avere la cittadinanza italiana. Sino ai 18 anni avevi 18 anni della cittadinanza nigeriana? Allora, sì, a dire la verità io ne avevo già due perché comunque stai sotto la cittadinanza dei genitori e nel mio caso mia madre comunque è già dopo la cittadinanza. Il problema stava nel fatto in cui io potevo andare all'università, rischiavo di andare all'università senza la cittadinanza italiana e lì sono veramente dei scatafasci, nel senso che l'università ti chiede di tutto e di più se non sei un cittadino italiano e se non sei un cittadino europeo. Per cui io, per esempio, per accedere alla magistrale che sto facendo adesso avrei dovuto partecipare a un altro bando perché risultavo extra comunitaria, avrei dovuto presentare tutta una serie di documenti che giustamente non esistono perché la nigeria dice io questa persona non l'ho mai vista, che cosa mi chiedi di nomi, no? E questo significava magari non riuscire a fare questa laura magistrale che io sto facendo comunque con degli ottimi risultati in questo istante e purtroppo sono problemi che esistono ma dei quali non si parla un po' magari perché bisogna essere molto fondati sull'argomento. Io è da quando ho 16 anni che ne sto parlando, quindi a Puglia di ripetermi, stare dietro la registrazione, un po' di cose le impari. E un altro po' anche perché magari hai un'intera fazione di persone che ti remano contro, non ho ancora capito il perché e per come, però molto spesso ti ritrovi un muro malgrado stai solamente tentando di voler dialogare. Poi ovvio a livello comunale probabilmente non riusciremo a cambiare le leggi, non riusciamo qui a Bologna, quindi non so se riusciremo in un paesino un po' più piccolo, però si possono attivare una serie di veicoli, di strumenti che legalmente esistono, il legislatore l'ha già considerati, che possono andare a mitigare questi problemi. Questo si può fare sicuramente. Certo, molto interessante. No, posso dire che sei una ragazza molto in gamba, hai le idee molto chiare e quindi penso che sia stata una risorsa anche per la lista Valore Futuro Averti fra loro in questa esperienza elettorale. L'ultima cosa, veramente Naomi, perché poi ho detto appunto questa sera abbiamo una serie di interviste. Tu ti informi sul tuo paese di origine, la Nigeria? Cioè la segui un po'? Anche qui, sì e no. Diciamo che il punto è questo, che la Nigeria è un paese enorme, noi la vediamo sulla mappa, sulle mappe molto piccolina, molto ridimensionata rispetto a quello che è veramente, ha più di 200 milioni di abitanti, e questo la dice già a lunga sulla mole dei numeri di cui parliamo, è divisa in stati, per cui io non solo mi dovrei informare sulla Nigeria, ma mi dovrei informare sul mio stato e sul mio popolo. Perché ci scordiamo anche che non hanno avuto una storia di divisione dei confini come abbiamo avuto noi in Italia. quindi si è combattuto per vari anni con l'autoprogrammazione dei popoli, abbiamo detto noi siamo il popolo italiano e abbiamo perso i nostri confini. No, lì c'è stato un colonizzatore, la bella famiglia imperiale inglese, che ha detto questi sono i confini, siete 200 popoli, a noi non ci interessa, e ci hanno messo tutti quanti lì dentro. Quindi diciamo che informarsi della Nigeria è difficile, perché bisogna prima distinguere la Nigeria cristiana, di cui faccio parte io e della Nigeria del Sud, dalla Nigeria musulmana. Ci sta una linea di mezzo che è una Nigeria un po' mista, ma se sei cristiano rimani comunque giù. E poi bisogna informarsi sullo stato e sul popolo, sulle tradizioni del popolo. Io, essendo che sono vissuta tutta la vita qui in Italia, mia madre poi è vissuta pochissimo in Nigeria, sono molto snaturalizzata a livello di cittadinanza. quando mi dicono che ti senti più nigeriano e italiana. Italiana. Però qualcosina ovviamente l'ascorto, tento di starci dietro. Nella pratica sto molto più in linea con la politica italiana, motivo per cui tutti i giorni un po' mi stappi i capelli, perché ne senti un po' di tutti i colori. E se la sera esci di casa, ti offre qualche cosa a reganarti come svago? Allora, è da un po' di anni che vivo qui a Bologna, per cui la risposta è... Cosa? Oppure vai verso la costa, non so, Civitanova, porto reganati. Nella pratica, di solito sto a reganati, rimango a reganati perché non mi piace fare... Qui a Bologna si dice balotta, fare gruppo, fare feste e via dicendo, quindi rimango a reganati che è molto tranquilla. Sicuramente offre qualcosa. Magari per qualcuno che ci sta tutti i giorni, tutto l'anno, offre un po' di meno, per cui rimane più, come dire, attrattiva, Civitanova, ma nemmeno forse Ancona, oppure addirittura andando ancora più su, andando verso Rimini. Anche lì è perché le facce più o meno, magari sono sempre quelle, non sai cosa fare a un certo punto, quindi il che è comunque positivo, per carità, perché conosci anche il territorio circostante. Certo. Noomi, io ti ringrazio tanto, mi ha fatto molto piacere conoscerti, perché ci ha dato l'occasione questa contingenza particolare, questa della campagna elettorale. Il nostro tempo è scaduto, io ti faccio tanti auguri, veramente di cuore, che tu possa anche avere grande successo nella vita, visto che ti stai per anche prendere la specializzazione, e quindi trovare subito un posto di lavoro e sistemare. Vuoi sposarti? Sì, vuoi mettere su famiglia? In teoria, vediamo adesso. Va bene, è l'aspirazione di tutti, penso. L'intente a quello. Benissimo. Tante belle cose, a presto. Grazie mille, anche a lei. Buona giornata. Sì, vediamo. Grazie mille. Beh... ... Grazie a tutti